Oggi è un presidio di accoglienza, di benvenuto per queste persone che sono state sottoposte a 100 ore di viaggio ulteriori quindi si doveva e si poteva trovare un porto più vicino e hanno aderito tutte le forze politiche di sinistra dal Partito Democratico, Rifondazione, Partito Comunista, Arci, associazioni di volontariato quindi un insieme di forze che hanno veramente contribuito a dare un segnale di solidarietà sono stati raccolti vestiario, si sono messe a disposizione persone per turni di assistenza nel luogo nel quale verranno ospitate le persone quindi io credo che la cittadinanza spezzina abbia risposto veramente in modo positivo e abbia dato un grande segnale invece lunedì mattina ci sarà un ulteriore presidio, un presidio di protesta sotto la prefettura perché il decreto piante dosi va modificato secondo noi è inaccettabile quanto accaduto, ovvero 100 ore in più di navigazione anche perché probabilmente lunedì mattina sapremo se poi verrà valutato il sequestro della nave esatto, questo è un ulteriore dettaglio si colpiscono le ONG che salvano delle vite in mare e soprattutto rispettando quello che è la legge internazionale del mare e conseguentemente si vanno a colpire quelle che sono le persone che vengono salvate perché 100 ore di viaggio ulteriore mettono sicuramente in difficoltà le persone che hanno subito molto già nella loro esistenza grazie